Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo su Road to Champions Sì ragazzi è strano che lo riporto, ma come potete vedere guardate quanti trofei sono arrivati 3197, 3 trofei, 3 trofei Non ci posso che ne mancano 3 trofei, arrivo in Lega Campione ragazzi, 3 trofei Sì me la sto sudando sta scalata, bene ragazzi, voglio cercare subito l'avversario Ragazzi eccolo qua l'avversario, questo c'è anche il TH abbastanza fuori, quindi volendo si può tristellare addirittura Cominciamo subito l'attacco, dà pochissime risorse, ma non importa, mi mancano 3 trofei 3 ragazzi, 3 fotutissimi trofei, devo riuscire a arrivarci Io me la voglio prendere sta Lega Campione Bene, in bocca al lupo Alex, questa battaglia è la decisiva È la decisiva ragazzi, non ci credo Ragazzi 3 trofei, 3 trofei, 3 trofei, 3 trofei Allora questo c'ha pure le truppe nel castello, i mastini stanno facendo il loro lavoro di protezione Guardate che arriva la, guardate che il TH viene buttato giù Il TH viene buttato giù Il TH viene buttato giù Eccolo, eccolo che viene buttato giù Dai ragazzi, ragazzi ragazzi, sì 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 Lega Campione, Lega Campione Lega Campione, Lega Campione, Lega Campione Sì cazzo, sì cazzo Assolutamente sì, però io lo voglio tristellare questo ragazzi Più forte di me la cosa È più forte di me la cosa di tristellarlo Buttiamoci i eroi Buttiamoceli anche gli eroi Tristelliamo sto pezzo di merda Io voglio arrivare in Lega Campione, mannaggia Cioè ci sono già arrivato, però lo voglio tristellare È proprio una soddisfazione personale che voglio Due stelle, due stelle Due stelle ragazzi, due stelle, due stelle, due stelle Due stelle, non ci credo, non ci credo, non ci credo Questo ragazzi lo tristello Questo ragazzi lo tristello di brutto Adesso l'arco X colpirà il Re Barbaro Il Re Barbaro si accentrerà Speruma Mangiamo pure i giganti nel castello questo Ma vattene a prendere in culo Vattene ai giganti, va Cacca flaccida Questo è un cacca flaccida Allora ragazzi, io voglio tristellarlo questo Farei di tutto persino per tristellarlo La regina colpisce Ok, ho attivato la furia Ho attivato la furia Ho attivato la furia Ho attivato la furia Ragazzi, due stelle l'ho fatta Lega Campione raggiunta Lega Campione raggiunta Io non ci posso credere ragazzi Con un TH9 in Lega Campione Voi ci potete mai credere Io sono davvero, davvero molto contento Di averla raggiunta la Lega Campione E prenderò 2000 gemme 2000 fottutissime gemme 2000 gemme Ormai è una formalità l'attacco Ormai è diventata una formalità 2000 fottutissime gemme Non ho preso niente di nero Però ne è valsa la pena ragazzi Ne è valsa la pena 2000 gemme in arrivo 2000 gemme in arrivo Scusate la mia Eucuriva di ripetere anche le cosmo Ragazzi Potete mettervi nei miei panni Cioè Dai 2000 gemme in arrivo Non ci posso credere Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo L'attacco è finito ragazzi L'attacco è finito Sì sì campione Sono diventato un campione E finalmente E finalmente E finalmente Sì Cazzo sì 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 Lega Campione Sì Finalmente ragazzi Non ci posso credere Sono diventato un campione Ragazzi Lega Campione Finalmente Ci sono Arrivati E prendiamole Prendiamole Guardatele lì Guardatele lì 2000 fotutissime gemme 2000 gemme 2000 C'ho 2200 gemme ragazzi Ma stiamo scherzando Stiamo veramente scherzando qua Bene ragazzi Io direi Allora Decidete voi Io ho in mente un paio di serie Adesso Ti scrivetemi nei commenti qua sotto Arrivo in campione 1 Oppure Arrivo Inizio a scalare col secondo account Decidete voi Io ho in mente queste due cose qua Per Clash of Clans Attendo con ansia la vostra risposta Spero che il video veramente vi sia piaciuto Scrivetemi qua sotto nei commenti Cosa volete che porto Che serie volete che porto Se arrivare in campione 1 O arrivare col secondo account In Lega Cristallo Bene Spero che il video veramente vi sia piaciuto Mi sono dilungato anche più in troppo Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Alla prossima Belli Ciao ciao